Nome? Patrizio Gino Cognome? Sala Strippoli Dove giocavi? Nel Toro mi sembra Quindi professione? Nel Calciatore Non magazziniere? Ho fatto anche... mi sono pulito anche le scarpe, sì Professione? Giornalista Giornalista di che? Giornalista sportivo, giornalista critico musicale e poi altre cosette Non ti sembra esagerare? Ma figurati Sei d'accordo generalmente con Gino? Non sempre E quando lo sei? Quando lo spara cavolate E quando è che spara cavolate? Spesso, non sempre In genere sei d'accordo con Patrizio Sala? Sì e no Perché? E quando fa troppo lo studioso allenatore E quando lo fa? Sempre Ti è piaciuta la partita? No, zero spaccato Ce la facciamo a tornare in A? Mi auguro di sì No Neanche con i play-off? Quali play-off? Il migliore in campo oggi? Il migliore in campo? D'Ambrosio Nessuno Ce ne sarà stato uno? Nessuno Il peggiore? Tutti Il peggiore? Gli altri Ti ha convinto Morello al posto di Sereni? Sì Sì, assolutamente E secondo te con l'Antonio oggi ha sbagliato i cambi? Forse uno Sì, assolutamente Quale? Scaglia Perché? Perché era l'unico che dava un po' di finalizzazione Poteva creare l'uno contro uno Per andare a fare il cross per Bianchi Scaglia E dovevo sostituire prima Barusso Secondo Che cosa ne pensi di Pia? Beh, non sta rendendo per le aspettative che tutti avevamo Perché comunque Napoli negli anni presenti aveva fatto delle buone cose Scarso Con l'Antonio arriva a mangiare il gelato a giugno? Beh, direi che sì, anche perché finisce a maggio Beh, certo, c'è solo qui quello come allenatore Un'unica richiamare Beretta Secondo te Bianchi rimane? Mi auguro di sì, anche se non ne sono convinto Se il Torino rimane in A Cioè, se il Torino ritorna in A, sì Se il Torino rimane in B, non penso E non lo merita E Sereni? Sereni probabilmente può rimanere al Toro Ma non crede Il mercato di Petracchi? Buono, ma che non può avere continuità Perché? Perché sono tutti prestiti Buono per rimanere in Serie B Ma allo stadio quando sei in trasmissione non ti sembra di guffare un po'? Menagramo d'un menagramo No, io guardo bene la partita Ti arrabbi quando ti danno del menagramo? Menagramo No, perché non lo sono Ti sei divertito in trasmissione? Ma, cosa finire? Il secolo è il dottorio quando sei in trasmissione? Sì